Buonasera a tutti, come avete visto l'intervento di questa sera è intitolato tutelare la propria privacy senza sforzo con i front end alternativi, quindi andremo a vedere questi strumenti, vi spiegherò che cosa sono e come si utilizzano e che vedrete che è anche abbastanza semplice. Io sono Andrea, sono un consulente informatico forense, quindi mi occupo di casi in cui sono coinvolte prove informatiche o dispositivi digitali e sono anche uno sviluppatore software, infatti potete trovare un paio di miei software open source sempre utilizzati in questa disciplina e attualmente mi pregio di far parte del consiglio direttivo del luogo di Vicenza e quindi ho deciso di proporre questo argomento che è una tematica che comunque torna comodo a tutti quelli che utilizzano il web, che usano strumenti, applicazioni che si collegano a internet o che si consultano tramite internet. Questa sera vediamo sostanzialmente tre sezioni, innanzitutto parliamo di qual è il problema essenzialmente, cioè perché ci poniamo questo problema di che front end utilizziamo e come possiamo sostituirlo eventualmente, quindi cosa significa navigare sul web al giorno d'oggi. Poi vediamo in dettaglio cosa sono i front end alternativi, come funzionano a grandi linee senza andare troppo nel tecnico e come si utilizzano, come si possono accedere dal nostro computer. Poi in realtà ne esistono anche per smartphone, però vedremo principalmente quelli che si utilizzano tramite computer questa sera tramite un browser web. E poi qualche altro piccolo consiglio, qualche altra aggiunta o soluzioni non legate strettamente ai front end alternativi, ma comunque utili sempre per risolvere il nostro problema che è quello di navigare sul web oggi, nel 2023. Cioè cosa significa praticamente navigare sul web oggi? Allora voi immaginate che state girando per strada, fate un giro e decidete, vedete un negozio che vi interessa, perfetto, decidete che volete entrare nel negozio, state per entrare nel negozio, vi fermano e vi dicono ok però fermo, prima di entrare qua tu mi devi dare nome, cognome, indirizzo email, mi devi dire chi sei, dammi i documenti e poi casomai entri. Allora se vi dovesse succedere questa cosa qua nel mondo reale, è stata per entrare in un negozio e vi viene posto sotto questi termini e voi dite ma sei scemo? Cioè ma ti sembra normale? Io sto entrando e tu già mi blocchi, mi chiedi di identificarmi, mi chiedi di diretti i miei dati eccetera. E fa strano, no? Io potevo venire qua stasera e dirvi adesso compilate un modulo con i vostri dati altrimenti non vedete l'intervento e andate fuori e andate via. E dici ma è assurdo. Sul web questo succede tutti i giorni. Sui principali siti voi provate a aprire il sito, capitate perché evidentemente potreste avere fatto una ricerca sul web oppure un vostro amico vi ha mandato un link di un articolo, di una notizia o di un sito o anche di un post su un social network e praticamente quando entrate la prima cosa che viene chiesta è di dare qualche tipo di identificazione, a volte anche in modo esplicito. Praticamente negli ultimi anni si è passati da quello che è il web diciamo vecchio stampo tra virgolette a un sistema che è progettato, strutturato e realizzato in modo apposito per raccogliere una quantità sempre maggiore di dati perché più dati si raccolgono più si riesce a costruire un profilo specifico di ciascun utente che utilizza i servizi web, servizi internet in generale anche. Soprattutto quando si naviga tra i vari siti ci sono dei meccanismi fatti appositamente per tracciare l'utente che si sposta da un sito all'altro. Una volta erano soltanto i cookie poi hanno introdotto delle misure di sicurezza per ridurre l'impatto dei cookie quindi questi sistemi di tracciamento si stanno evolvendo in modo sempre un po' più efficace. L'obiettivo finale che attuano i gestori delle grandi piattaforme soprattutto qui sia social network di dimensioni importanti sia piattaforme pubblicitarie è quello di costruire un profilo specifico per ogni utente che non è tanto in realtà non necessariamente ti devono identificare per nome e cognome potresti anche avere un numeretto però l'importante è che ti devono identificare che tu sei sempre tu quindi che ti sposti da un sito all'altro devono poterti identificare e registrare tutto quello che fai come interagisci col sito perché tutti questi dati poi servono per preparare della pubblicità che è maggiormente calibrata sul tuo profilo e quindi mentre stavo preparando il materiale per questa serata ho trovato questo articolo mi pareva molto interessante su The Verge e il titolo è non voglio accedere al tuo sito web e il sottotitolo semplicemente non leggo basta risolto ed è ovviamente è un pezzo di opinione però è molto interessante perché fa delle considerazioni che dovrebbero essere abbastanza anche un po' tra virgolette scontate comunque ci riconosciamo all'interno di questo articolo infatti una delle delle parti più interessanti è una considerazione che riguarda quello che era il web aperto, il cosiddetto open web e cioè dice che praticamente i siti attualmente cercano di creare tanti luoghi isolati tra loro che è un po' il contrario di quello che era il web, come è stato concepito e infatti dice più ogni sito cerca di creare il proprio piccolo giardino recintato, in inglese è un'espressione che si chiama world garden e meno valore assume il web aperto perché potete pensare anche ad esempio per fare un esempio pratico a google. Google quando è nato era progettato per fare in modo che le persone spendessero meno tempo possibile tra aver bisogno di qualcosa e trovare il risultato che che volevano raggiungere quindi è stato progettato per essere molto veloce in caricamento per offriti i risultati in modo praticamente istantaneo digitavi le parole chiave premevi invio o facevi click istantaneamente uscivano i risultati trovavi i risultati che ti serviva cliccavi e arrivavi su un sito che non era google adesso invece l'interfaccia dei risultati di ricerca di google sono progettate per cui circa il 70-80% di spazio sullo schermo quando voi cercate qualcosa su google punta ad altri servizi google che siano le mappe che siano le notizie che siano i biglietti degli aerei tutte queste cose qua sono risultati di google cioè voi cercate una cosa su google soprattutto se è una tematica un po' famosa un film o una notizia particolare i primi risultati sono tutti risultati che puntano ad altri siti google quindi voi cliccate quei risultati ma siete sempre dentro google non siete usciti verso altri siti web siete rimasti dentro google perché l'obiettivo è di farvi rimanere dentro in modo che anche se fosse youtube o altre comunque piattaforme di google perché se rimanete dentro potete vedere più pubblicità quindi un motore di ricerca che era nato per farvi uscire il prima possibile adesso è studiato per farvi stare dentro il più possibile ma non è solo google ovviamente facebook instagram tutte queste piattaforme sono fatte per cercare di tenervi dentro stavo leggendo un po' di tempo fa non ho effettivamente controllato i dati ma mi torna abbastanza al discorso che su alcuni social network i post che contengono link sono penalizzati rispetto a quelli che contengono immagini o video perché se tu posti un link l'utente probabilmente potrebbe andare fuori perché se clicca il link cambia pagina però se tu posti una foto l'utente non può uscire al limite apri commenti interagisce condivide ma non esce e quindi vengono penalizzati i post che hanno collegamenti esterni questo è sempre tutto perché è stato pianificato per mantenere all'interno del giardino recintato e questa voglia, questa brama di dati personali viene applicata con tutta una serie di tecniche che sono un po' diverse tra di loro ma comunque le rivedete sempre costantemente su vari siti web ne vediamo alcune adesso probabilmente ce ne sono anche delle altre ma queste sono le principali e sono sicuro al 100% che alcune di queste le avete viste o le vedete praticamente tutti i giorni una delle più recenti soprattutto nel nostro paese che ha iniziato a diffondersi all'incirca nella seconda parte del 2022 è il banner che ti propone scegli tra due morti di che morte vuoi morire o accetti i cookie o paghi un abbonamento questo si chiama cookie wall e è una modalità che hanno iniziato a utilizzare i giornali online italiani nella seconda metà del 2022 soprattutto verso ottobre però in realtà ce ne erano alcuni che avevano iniziato già prima ed è una diciamo è stata un po' una mossa azzardata perché gli editori volevano testare i limiti mettere il piedino nell'acqua i limiti del gdpr ora è evidente è palese che questa pratica viola i principi base del gdpr e se non fossi registrato in questo momento direi che è palesemente illecita ma non lo dirò perché sono registrato però il punto è che adesso il garante della privacy italiano ha aperto un'istruttoria da 5 mesi che sta facendo questa istruttoria per verificare perché a quanto pare ci sono delle scuole di pensiero diverse su quanto riguarda la libertà del consenso perché il gdpr prevede che il consenso al trattamento dei dati personali è una base valida per il trattamento però il consenso deve essere esplicito deve essere libero e deve essere chiaro sul fatto che sia libero la scelta tra accetto i cookie quindi accetto un trattamento dei dati personali anche per fini di profilazione oppure decido che non voglio concedere questo trattamento per i dati personali però mi viene offerta una possibilità alternativa che è quella di iscrivermi quindi avere un sito senza cookie senza altre opzioni però a pagamento quando il contenuto sarebbe disponibile gratuitamente secondo alcuni sarebbe lecito perché comunque ti dà una possibilità di scegliere secondo altri no perché nel senso che se l'articolo è disponibile gratuitamente tu mi stai dicendo che per vederlo sono obbligato ad accettare il trattamento con i cookie altrimenti non lo vedo se non in altro modo che però è diverso ovviamente io sono dell'opinione che questo tipo di trattamento non sia comunque se non altro conforme ai principi del GDPR adesso stanno verificando se effettivamente è utilizzabile o no e non c'è neanche una completa omogeneità nei paesi europei nel senso che ci sono paesi in cui è stato già diciamo stabilito tramite provvedimenti o chiarificazioni, linee guida eccetera che questo non si può fare altri paesi europei in cui questo è consentito quindi diciamo che non ci aiuta neanche questo per il fatto che non c'è un completo allineamento nell'interpretazione del GDPR nei vari stati però questo è un caso che vedrete molto più di frequente se non altro perché tutti i principali editori italiani stanno utilizzando questa modalità però allora qui vedete addirittura lo screenshot di un home page cioè prima ancora di aver cliccato un articolo già ti viene chiesto di accettare i cookie fa un po' ridere perché tu vedi praticamente accetta e continua preferenze cookie e in basso in piccolo rifiuta e abbonati ok? non esiste che tu puoi rifiutare i cookie però paghi farebbe ridere anche di più se non fosse una cosa abbastanza triste e squalida però è così e la cosa assurda è che in realtà il contenuto della pagina è lì cioè non è che la pagina in questo momento è vuota e aspetta che io accetti o rifiuti ma il contenuto è già lì sotto semplicemente ci hanno messo un rettangolone nero un po' semi trasparente per coprirlo leggermente ma il contenuto è lì anche quando aprite un articolo che vi obbliga scusate perché non è una richiesta è un obbligo praticamente ad accettare i cookie l'articolo è già lì è già stato caricato nella pagina semplicemente te lo stanno un po' sfocando o nascondendo oltre a questo questa è una prima pratica tra le più recenti altre pratiche che trovate in giro chi più chi meno a volte dopo un tot di tempo che utilizzate il sito eccetera è la richiesta di registrarsi questo qui nell'esempio c'è twitter che in realtà non è al 100% forzata perché a volte ti permette anche di chiuderla quindi scorrere un altro po' poi te la ripropone, la richiudi eccetera però ci sono altre piattaforme dove appena cominci a scorrere un po' dopo di che ti mostra un banner con scritto adesso se vuoi continuare ti registri per esempio Instagram Instagram potete aprire i profili di chi volete che siano pubblici ovviamente quando cominciate a scrollare un pochino dopo qualche foto si blocca l'interfaccia non potete più muovervi e ti viene fuori il modulo con scritto registrati o accedi perché loro ti dicono accedi ma in realtà il sottotesto è che se non hai l'account per accedere cosa devi fare? devi registrarti ovviamente non è che puoi accedere così e questa è un'altra cosa che vedete frequentemente anche per leggere contenuti che sono pubblici comunque magari è un esempio un po' forzato però potreste avere una personalità magari un politico italiano che scrive dei messaggi su twitter voi come cittadini siete interessati a vedere cosa ha scritto sto politico che magari mi governa o che è un amministratore della mia città eccetera provate a scorrere poi vi viene chiesto di registrarvi a twitter e ripeto questo non è neanche il caso peggiore perché qua più o meno qualcosa si riesce a schivare oppure ancora sempre per quanto riguarda gli inviti molto calorosi se utilizzate lo smartphone per navigare capitate su un sito sì e l'altro no e vi propone diciamo così anche se è spesso evitabile di installare l'app addirittura ti dicono spesso che questo sito funziona cioè questa applicazione funziona scusate questa piattaforma funziona meglio con l'app come a dire sì tu puoi vedere la pagina web ma non vedi tutto alcune funzioni le vedi solo se apri con l'app altrimenti vedi metà robe praticamente o comunque non ci sono tutti i contenuti colpevolissimi di questa pratica instagram reddit tiktok che sì ti mettono un tastino piccolo che ho scritto no non adesso voglio rimanere sul browser non è che ti stanno obbligando al 100% però di fatto ti stanno facendo capire che la versione web è considerata un po' di serie B questo perché perché loro vogliono che voi installate l'app non solo o comunque non tanto per dire ah guarda quante installazioni che abbiamo abbiamo tanta gente che l'ha installata eccetera non è tanto quello ma primo per usare l'app bisogna registrarsi secondo l'app è sviluppata da loro quindi mentre io sto usando l'app chi ha sviluppato l'app ha il pieno controllo di vedere tutto quello che faccio mentre dentro il browser ci sono alcune limitazioni quindi se io sto scrollando con l'app mi soffermo riduco icona ho delle notifiche eccetera potenzialmente sono tutti dati che possono essere intercettati dall'app e loggati non solo tutte queste app adesso come funzione di comodità perché viene venduta così ti danno il browser integrato quindi se io mando un link a un mio amico e questo mio amico lo apre con lo riceve come messaggino su Instagram per esempio clicca il link non apre il browser che lui ha scelto e che ha sul telefono ma rimane nel browser integrato di Instagram e questo perché? perché è più veloce ad aprirsi? certo è più veloce ad aprirsi ma non solo perché dentro il browser integrato di Instagram indipendentemente da quale sia il sito che sia la home del Luc Vicenza che sia un sito di notizie che sia qualsiasi altra roba che ovviamente non è di Instagram ma Instagram può continuare a tracciare quello che faccio quindi può vedere le pagine che visito il link su cui clicco quanto sto scrollando quanto mi soffermo su certe sezioni eccetera eccetera e ovviamente TikTok lo stesso ancora peggio quindi c'è tutto l'interesse a fare sì che ci sia un browser integrato all'interno dell'app e c'è tutto l'interesse a fare in modo che se io mando un link a qualcuno Instagram è contenta se mando il link tramite Instagram perché sa che poi chi lo riceve 90 su 100 non lo apre con il browser ma lo apre dentro Instagram e quindi rimane dentro e quindi posso io che gestisco Instagram posso continuare a tracciare quello che sta facendo l'utente anche su pagine che ovviamente non sono di Instagram o non hanno nessuna funzionalità di integrazione con Instagram quindi io magari ho fatto un sito super attento al trattamento di dati non ho cookie particolari né niente ma se il mio sito viene visitato da una persona con l'app di Instagram questa app sta registrando le interazioni sul mio sito quindi attenzione al browser integrato se utilizzate queste app vi consiglio comunque ma anche per esempio le news di Google con il feed delle notizie recenti c'è l'opzione per disattivare il browser integrato e andare a finire sul browser di sistema cosa che vi consiglio di fare ogni volta che è possibile quindi la conclusione qual è di questa prima parte è che il web 2.0 quello che avevamo visto come grandissima novità all'inizio degli anni 2000 praticamente che stava diventando tutto più interattivo perché siamo passati da un web che era praticamente solo pagine statiche senza nessun tipo di interazione siamo passati al web 2.0 che era tutto nuovo tutto bello tutte queste piattaforme che si integrano tra di loro rendono la funzionalità più semplice l'utente può avere più funzioni interattive l'utente può produrre dei contenuti su YouTube adesso parlo come se fossi ai miei tempi cioè su YouTube le persone andavano per caricarci i video non per guardare quelli degli altri quindi tu andavi su YouTube potevi caricare anche dei video adesso gli unici che fanno video su YouTube praticamente sono persone che lo fanno dalla mattina alla sera come attività continuativa hanno team che fanno il montaggio la grafica i copioni l'audio le recensioni tutte queste cose qua è diventato tutto commerciale ma originariamente era focalizzato sul fatto che gli utenti creassero i contenuti e soprattutto era focalizzato sull'interoperabilità cioè c'era questa idea anche fantastica direi che tutti i servizi dovessero essere interoperabili integrarsi tra di loro poi si sono accorti però che guadagnavano più soldi se isolavano tutto quindi hanno cominciato a smontare tutto quello che è stato fatto per regredire a uno stato primordiale in cui praticamente ogni primordiale per modo di dire perché insomma ogni sito ogni piattaforma grossa ha cercato di fare il proprio orticello e tenendo fuori gli altri o meglio facendoli entrare ma dopo che sono entrati non escono più perché l'obiettivo era quello tutti sono benvenuti a venire dentro poi quando sono dentro chiudiamo il recinto e siamo a posto così infatti c'erano tante funzioni anche che permettevano in modo più o meno diretto in modo più o meno ufficiale le integrazioni tra Twitter Facebook queste piattaforme di altro tipo che via via sono state smantellate perché una volta che gli utenti sono arrivati non ha più senso che io gli do di agevolo a condividere i contenuti di Facebook verso l'esterno ormai sono su Facebook li tengo dentro quindi sta morendo e praticamente stanno ammazzando gli aspetti positivi che erano stati derivati da quello che era Google 2.0 hanno costruito tutta questa serie di muri e di gabbie dorate se volete perché immaginate soprattutto certe fasce di popolazione per cui non c'è più il concetto di navigare su ci sono certe fasce soprattutto giovani che non navigano sul web navigano su un social network sia TikTok adesso o anni fa era Instagram o era ancora Facebook prima ancora però comunque stanno lì le notizie le vedono su TikTok o su Instagram le ricette le vedono su Instagram tutte le cose le vedono lì non stanno neanche a cercare online perché sono già dentro in altri paesi è ancora peggio perché se pensate alla Cina per esempio ci sono delle piattaforme che sono praticamente diventate dei sistemi operativi hanno un'app che fa tutto i biglietti del cinema il bus le notizie trasferimenti di denaro tutto dentro un'app perché? perché hanno inglobato le persone lì dentro uccidendo quello che era effettivamente il web e qua abbiamo un po' delineato qual è la situazione attuale qual è il problema che vogliamo in parte cercare di risolvere o almeno tutelarci un po' dal nostro punto di vista quindi vi vado a spiegare adesso cosa sono i frontend alternativi e come si adoperano allora sostanzialmente immaginate cos'è il concetto praticamente il frontend alternativo è una interfaccia che ci viene offerta per accedere a un servizio famoso solitamente però senza andare direttamente sul sito di questa piattaforma invece utilizziamo un'alternativa quindi ci colleghiamo al frontend alternativo cerchiamo inseriamo quello che vogliamo cercare o comunque utilizziamo questa interfaccia che non è quella ufficiale ma è fornita da qualcun altro cioè è come dire non voglio più usare lo zucchero però voglio comunque sentire il dolce e quindi uso il dolcificante uso qualcos'altro molto spesso i frontend alternativi sono software liberi che sono sviluppati da community o comunque volontari eccetera e siccome spesso sono fatti per essere utilizzati tramite web devono essere installati anche da qualche parte quindi ti danno la possibilità o te lo scarichi e te lo installi per punto tuo su un tuo server o più spesso sono messi a disposizione su apposite istanze quindi dei server che dei volontari gestiscono pubblicano a volte ci sono anche quelle tra virgolette ufficiali degli sviluppatori poi delle istanze secondarie e così via e sono messi a disposizione per l'utilizzo di tutte le altre persone che vogliono utilizzarle senza però installarsene in locale gestisseli eccetera perché può essere anche scomodo quindi diverse istanze che si possono trovare sul web e una delle caratteristiche è che quasi sempre insomma non ti richiedono di fare accessi login eccetera con l'account del sito ma sono diciamo abbastanza utilizzabili in modo anonimo cioè senza loggarsi e solitamente hanno un ridottissimo utilizzo di cookie e di script javascript che appesantiscono magari la pagina quindi sostanzialmente il funzionamento è di questo tipo l'utente vuole collegarsi a twitter ma invece di andare sul sito di twitter visita un frontend fatto specificamente per twitter vede la pagina web cerca i contenuti che vuole vedere il frontend cioè il server che gestisce il frontend si collega a twitter prende le informazioni le rielabora un po' e poi le mostra all'utente quindi il frontend alternativo praticamente è un software che sta in mezzo tra l'utente e la piattaforma che voglio sostituire questo che vantaggi ha sostanzialmente che noi andiamo ad avere molto spesso un'interfaccia che è più leggera dell'applicazione web ufficiale quindi anche più veloce si carica in un attimo e su alcune piattaforme è veramente incredibile la differenza perché vedi una piattaforma che è pesantissima eccetera e l'altro che appena la visita si carica istantaneamente perché hanno tolto tutti gli script di tracciamento gli script per fargli effettini quelli belli tutte ste robe qua hanno ridotto all'osso quindi niente script di tracciamento non abbiamo la pubblicità perché ovviamente al gestore del frontend non interessa rifar vedere gli stessi banner pubblicitari del sito originale e fargli e dargli gli introiti che non funzionerebbe neanche dal punto di vista tecnico naturalmente la fruizione che noi abbiamo del contenuto è maggiormente privata perché noi comunque chiediamo i dati a un sito intermedio il sito intermedio poi chiede i dati al servizio originale quindi è un elemento che si frappone tra noi e il sito quindi siamo un po' tra virgolette schermati in un certo senso e poi sono senza registrazione quindi non dobbiamo avere l'account su Twitter per vedere un frontend di Twitter e così via perché molti di questi siti offrono dei dati che sarebbero anche visibili pubblicamente se non ci fossero quei rettangoloni che ti coprono le robe quindi in realtà i dati sono visibili pubblicamente solo che è un po' scomodo a vedere con il frontend me lo fa vedere in modo più semplice poi ci sono anche piccoli aspetti che ovviamente sono un po' svantaggiosi innanzitutto in genere dobbiamo sapere su che istanza andare che se non sappiamo il sito su cui navigare non sappiamo l'indirizzo non sappiamo neanche dove è il frontend e in alcuni casi succede che le istanze o perché sono in manutenzione o più frequentemente perché magari il software deve ricevere qualche aggiornamento dopo che il sito originale è cambiato l'istanza potrebbe anche non funzionare e quindi su alcune pagine mi dà errori mi dà problemi poi il fatto che non c'è la registrazione non c'è neanche il login ovviamente potete immaginare che significa che voi il sito lo vedete in sola lettura e basta cioè io posso collegarmi a un frontend di youtube e vedere il video ma non posso mettere mi piace non posso commentare non posso rispondere a nessuno perché non sto usando il sito originale non ho l'account quindi non posso interagire questi sono ovviamente dei come dire dei compromessi che uno può decidere di tenere eventualmente utilizza il frontend alternativo per la maggior parte dell'uso poi se vuole lasciare un commento andrà sul sito originale farà login e metterà il commento che vuole ma allora cosa che viene tutelato di preciso dobbiamo fare attenzione a non confondere il frontend alternativo con una vpn o un proxy o altri sistemi che sono cose diverse cioè il frontend alternativo è praticamente uno strumento che ci riduce l'impatto diciamo di quelli che sono i dati che il browser trasmette al sito originale paradossalmente cioè se voi usate una vpn il sito originale non vede il vostro ip ma non gliene frega niente perché tanto vede i cookie vede i websoc tutte le informazioni che sono gestibili dal browser le vede lo stesso quindi l'ip non gli interessa però tutto il resto lo vede viceversa con il frontend alternativo rimuoviamo praticamente quasi tutti gli script rimuoviamo i banner pubblicitari rimuoviamo i cookie però l'ip originale potrebbe essere esposto perché ad esempio se io ho un frontend di un sito che ha delle immagini e che ha dei video non è che il frontend se le scarica poi me le rifà caricare anche a me semplicemente mi dà il link diretto al server originale quindi io vedo le immagini dal server di partenza quindi a livello teorico e pratico il server di partenza vede comunque il mio indirizzo ip però non avendo tutta un'altra serie di informazioni tra cui cookie eccetera per correlare questo ip con altre informazioni comunque riduce notevolmente l'impatto di quello che è la mia esposizione dei dati come il casco cioè se io metto il casco non è che posso che mi impedisce di prendere una botta sul gomito ce l'ho in testa il casco però qualcosa è esposto comunque sì però comunque mi proteggo di più che andare in giro senza ovviamente quindi riduciamo praticamente notevolmente il tracciamento dei nostri comportamenti e vi faccio vedere cito a titolo di esempio qualche frontend alternativo e poi vediamo qualche altro consiglio e dopo nella parte finale vediamo come utilizzarli allora per esempio abbiamo parlato di youtube per youtube ce ne sono alcuni tra cui il più famoso in videos che ha un sacco di istanze disponibili e qui vedete ad esempio la pagina di un canale non si vede tanto perché è una descrizione molto lunga sotto ci sono tutti i rettangoli con i vari video uno clicca sul video e naviga e vede il filmato come se fosse su youtube ovviamente il filmato arriva direttamente dai server di google non è che me lo me lo replica in qualche modo quindi quel singolo server di google vedrà l'indirizzo ip però ad esempio non ti traccia quando inizi a premere play quando metti in pausa quando tiri indietro tutte queste cose quando scrolli la pagina su e giù i commenti che espandi tutte queste cose secondarie per modo di dire non le può tracciare quindi gli scherma il tracciamento in tutte queste azioni qua c'è youtube normale poi esiste anche un altro servizio di google che si chiama youtube music e youtube music ha dei front end dedicati tra cui hyper pipe per esempio qui c'è la pagina di un artista ci sono le canzoni gli album play pause eccetera uno si può riprodurre la piattaforma tra l'altro youtube music funziona sostanzialmente così che vi vendono un abbonamento per usare delle funzionalità come ad esempio la riproduzione in background se avete il cellulare e spegnete lo schermo youtube si ferma a meno che non abbiate l'abbonamento specifico per youtube normale o per youtube music in cui vi permette di ridurre icona fare tutte queste cose qua ma è solo una cosa estetica perché in realtà le canzoni di youtube music voi le trovate tutte su youtube se cercate qualsiasi brano che è disponibile su youtube music a pagamento su youtube lo potete vedere perché vedete il video della canzone sono tutti disponibili a tu diciamo a chiunque quindi il front end di youtube music cosa fa? semplicemente ti offre un'interfaccia diversa per i video di youtube che hanno le canzoni ciò significa che praticamente potete utilizzare il servizio anche su uno smartphone dove non avete l'app installata aprite col vostro browser hyperpipe o comunque uno di questi front end cercate l'artista che vi interessa fate play e parte potete spegnere lo schermo il browser comunque continua a riprodurre e state ascoltando in una modalità che comunque vi scherma dal tracciamento continuo e da questi diciamo artifici che vi vogliono indurre a pagare un canone perché se no se spengo il display si ferma tutto ma è solo un artificio diciamo tecnico poi per twitter abbiamo nitter qua vedete un profilo voi sapete che i profili su twitter o sono pubblici o sono privati non ci sono tante altre alternative quindi i profili pubblici sono accessibili da tutto il mondo di conseguenza ci possono fare dei front end che mi mostrano i profili senza che io debba essere logato tra l'altro paradossalmente se ad esempio c'è qualcuno che vi ha bloccato su twitter ma ha il profilo pubblico voi sapete ad esempio che potete aprire una schermata in sessione anonima o cambiare browser eccetera vedere comunque il profilo se non avete voglia di fare tutto sto giro lo seguite su nitter che vi dà anche la possibilità insomma di seguire gli update e tutto e vedete tutto quello che scrive anche chi vi ha bloccato ovviamente non potendo interagire perché è in sola lettura però potete vedere i profili in modo più anonimo diciamo per reddit c'è libreddit o libreddit anche qua molto carino molto leggero soprattutto come interfazio non che reddit sia particolarmente pesante in realtà però almeno posso cliccare sui commenti senza che ogni 3 secondi mi dica guarda che devi fare login che non è niente male insomma se devo leggere i commenti almeno li leggo senza starli tanto a cincischiare un'altra cosa carina è che questo come anche altre di queste piattaforme di solito hanno comunque un ingranaggio di core ingranaggio con alcune preferenze tipo potete scegliere di vedere o no certi tipi di contenuti lingue cose di questo tipo a seconda della piattaforma ti offrono diverse opzioni quindi su alcune istanze magari ci sono delle opzioni che mi promettono di filtrare più o meno di contenuti per TikTok c'è Proxy Talk e qui potete vedere i profili e i video pubblicati sostanzialmente non potete vedere i commenti mi sembra perché non è un dato che viene esposto dal servizio originale se non utilizzate l'app e quindi non è possibile accedervi diciamo se non siete logati però potete seguire un profilo su TikTok vedere i video che vengono pubblicati tra l'altro anche scaricarli perché c'è il tastino sotto o fai clic destro e salva oppure c'è il tasto proprio scritto download c'è il download sia della versione con il watermark sopra che la versione pulita senza watermark quindi comodissima e potete seguire profili anche qua in modo anonimo diciamo tranquillo e poi uno dei servizi più veloci in assoluto è Scribe per Medium Medium è un servizio di blogging in cui le persone possono aprire dei blog e scrivere degli articoli che diciamo è una piattaforma che è stata studiata per essere anche dal punto di vista estetico tipografico eccetera abbastanza leggibile tutta una serie di di lavoro dietro tante persone che studiano la leggibilità il font la dimensione dei caratteri tutta una serie di parametri anche per l'editor per rendere l'esperienza più leggibile più comoda eccetera però l'interfaccia è lentissima cioè voi aprite un articolo su Medium carica una paccata di javascript gigantesca c'è una chilata di javascript che deve essere eseguito caricato eccetera quindi apre un articolo su Medium e dici sì ok bello sto vedendo un articolo che esteticamente è bellissimo però c'ho la ventola che è sparata al massimo e la pagina ci ha messo un tot per caricarsi perché l'hanno caricato tantissimo in più si sono inventati il giochetto che dopo un certo numero di articoli che comunque sono visibili pubblicamente senza nessun tipo di login dopo un certo numero di articoli ti bloccano dicendo ti chiedevi fare un abbonamento o altre cose però appunto sono articoli che se uno accede tramite google o cambiando pc eccetera li vedi ovunque sono pubblici comunque quindi hanno inventato scribe come interfaccia alternativa ed è una cosa stupenda perché tu clicchi l'articolo su scribe si carica così non ha nessuna riga di javascript cioè due righe tipo una arbetta proprio minima il codice html è pulitissimo vedete tre tag html body div article e c'è l'articolo basta semplicissimo è anche abbastanza carino graficamente è di una leggibilità estrema c'è il tema chiaro il tema scuro come tanti altri che abbiamo visto prima e va una meraviglia sia su pc che su cellulare quindi vi consiglio di provarlo assolutamente e poi vediamo come provarli questi strumenti e ci sono front end per i motori di ricerca quindi per esempio c'è SERXNG che è una variante di SERX che è un altro front end libero e questo è un progetto molto interessante perché è un front end di più motori di ricerca contemporaneamente che voi potete scegliere nelle impostazioni quindi in questo caso ho cercato Lug Vicenza ed è venuto anche il comune di Lugo di Vicenza e la pagina facebook del Lug la Lug Map e così via questi risultati li ha presi da quant e DuckDuckGo contemporaneamente me lo scrive sotto però io potevo dirgli no non voglio i risultati di quant di Bing non mi interessa non voglio solo i risultati di Google quindi sarei dovuto andare nelle opzioni scegliere Google disattivare tutti gli altri rifare la ricerca e mi avrebbero posto solo i risultati di Google però senza che Google vedesse che io ho fatto quella ricerca perché vedeva i dati del server che sta in mezzo quindi venivano tutte le ricerche aggiungevano dello stesso indirizzo del server quindi è molto comodo perché potete vedete cercare immagini video musica eccetera scegliendo esattamente da quali fonti volete cercare e questo qua tra l'altro ha un pannello di impostazioni molto grande con tantissimi parametri a disposizione e vi da anche la possibilità siccome non siete registrati non avete account né niente una volta che avete configurato tutti i parametri vi da un link lungo 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 che potete salvare nei segnalibri o metterlo come home page del browser ogni volta che visitate il link anche se avete cancellato i cookie se avete resettato il browser eccetera vi mantiene le vostre preferenze però stanno nel vostro browser non vanno diciamo sincronizzate da nessuna parte o registrate da altri ora se uno non vuole impararsi a memoria gli indirizzi web delle istanze alternative e magari vuole un sistema diretto per cui se una persona mi manda un link a twitter o a reddit io non voglio andare su twitter non voglio andare su reddit ma voglio andare direttamente su un'istanza alternativa posso installare un'estensione per il browser in realtà ne esistono due questa è quella che ho provato io che trovo molto valida che si chiama live redirect e questa estensione la trovate per i principali browser anche se naturalmente penso che non debba dirvi che dovreste usare firefox e non usare google chrome però questa estensione vi permette in automatico appena visitate il sito di andare su frontend alternativo ma potete anche scegliere che alcuni non li volete ridirezionare per esempio io twitter lo uso ho l'account mi interessa averlo quindi l'ho disattivato e se visito twitter visito twitter però se visito reddit voglio essere ridirezionato quindi per ogni sito scelgo se voglio che vada in automatico oppure in manuale se lo voglio in manuale io vado sul sito originale però posso cliccare sull'icona in alto e comunque dirgli ok questo link adesso me lo fai vedere su un frontend alternativo non solo tra tutti i frontend che ci sono vi permette anche di scegliere quali stanze volete e quali non volete perché magari una funziona male o non vi fidate di chi lo gestisce eccetera la spegnete e rimangono tutte le altre tutte le altre che vengono solitamente scelti in modalità casuale quindi ogni volta che visitate un sito un link di reddit vi mando su un libro reddit diverso per dire un esempio oppure dite no io voglio solo questa e rimane fissa poi vediamo nella pratica come si utilizza e vedete che è molto pratica molto semplice da usare veramente la comodità è quella che è automatica perché se mi mandano un link qualcuno mi manda un link di reddit se no dovrei star là a copiare il link andare su un'istanza alternativa incollare il link aprire cioè diventa un po' macchinoso invece così è totalmente automatico e quindi non vi accorgete neanche che ce l'avete sostanzialmente ora andiamo a vedere qualche altro piccolo suggerimento che va oltre i frontend alternativi perché magari sì questi vanno bene però sono fatti per specifici siti cosa che possiamo fare diciamo nel nostro utilizzo quotidiano del web in cui navighiamo su siti di tutti i tipi che non è detto che il sito di notizie microscopico abbiamo frontend alternativo probabilmente non ce l'ha partiamo dalle estensioni per i cookie ora voi sapete che per le norme attualmente in vigore se un sito fa utilizzo di cookie di profilazione o cookie di tracciamento soprattutto i cookie di terze parti è tenuto a informare l'utente e anche a richiedere un consenso per i cookie di prima parte i cookie tecnici invece scusate cookie tecnici o cookie di statistica di prima parte il sito deve solo fornire un'informativa non deve richiedere il consenso qual è il problema? che il fatto di fornire un'informativa alcuni siti non hanno capito bene che deve essere solo un'informativa ti sparano comunque il banner in basso con scritto guarda che usiamo i cookie ok non serve che metti il banner basta che sia nell'informativa sui cookie quindi metti un link all'informativa non mettermi il banner se stai usando solo cookie tecnici perché non sei tenuto a farlo e però vabbè invece tutti quegli altri che usano cookie di profilazione cookie di tracking in terze parti eccetera ovviamente sono tenuti a chiedere il consenso qual è il problema? che di solito le schermate del consenso sono accetta tutti un pulsantino se vuoi rifiutarli devi fare otto passaggi clicca preferenze sui cookie statistiche disattiva ok questo ok 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 e alla fine in teoria riesci anche a salvarlo anche se di default dovrebbe essere disattivato una volta che clicchi su preferenze sui cookie però vabbè ora uno dice eh ma che stress questa legge non è colpa della legge è colpa di chi sta usando i cookie di terze parti perché è inutile che tu mi metti 84 tracciatori diversi e poi appena visito il sito lascia fuori un banner che ho scritto abbiamo a cuore la tua privacy no non ce l'hai a cuore se no non mettevi quei cookie là non metterli neanche non è vero che hai a cuore hai a cuore che non ti sanzioni quindi ti stai mettendo quel banner lì e di conseguenza cosa succede? è che siccome noi naturalmente siamo persone un po' attente quindi dobbiamo rifiutare i cookie sostanzialmente sempre a parte i casi particolari in cui decidiamo noi ci troviamo che tutti i giorni navighiamo sui siti web la prima cosa che esce fuori è il banner gigantesco dobbiamo andare su 20 menu sotto menu clicca qua clicca là forse riesco anche a salvare una volta che hai salvato magari il sito si ricarica e ti manda sulla home page invece che sull'articolo che stai vedendo ci sono delle estensioni che mi automatizzano la gestione dei banner per i cookie quindi il browser lo fa al posto mio due estensioni con due approcci completamente diversi tra di loro c'è Consentomatic che è sviluppato all'università di Horus in Danimarca ed ha un approccio molto diciamo orientato al rifiuto nel dubbio e soprattutto è personalizzabile cioè hanno tutta una serie di regole molto complicate all'interno dell'estensione che mi permettono di dirgli le categorie di cookie che io voglio accettare oppure no quindi posso dirgli quelli tecnici strettamente necessari vabbè ovviamente sono obbligatori cioè nel senso sono necessari al funzionamento quelli di preferenza tipo non so c'è il cookie che si ricorda se io ho il tema chiaro, scuro il font eccetera lo vuoi tenere attivo o no? si dai lo attivo quelli di tracking no quelli di tracking no e quelli del carrell tutte queste cose qua mi chiede come li voglio impostare una volta che li ho impostati salvo le impostazioni da quel momento tutti i siti che visito tenterà di esplorare il banner e di compilarlo pagina per pagina in modo da rispettare le mie scelte ovviamente non funziona al 100% su tutti i siti su alcuni rimane il banner e allora te lo devi gestire tu però diciamo che riduce notevolmente l'impatto e nel dubbio rifiuta il cookie viceversa un'altra estensione che questa invece è sviluppata da un singolo programmatore che lo fa come hobby I don't care about cookies e ha un approccio diverso perché quello tende semplicemente a cercare il banner dei cookie e tirarlo via dalla pagina oppure cliccare ok accetta tutto quindi questo è proprio un approccio differente cioè nel dubbio accetta io tempo fa utilizzavo la seconda adesso sto usando il consentomatic e mi trovo anche bene è vero che ne cattura meno perché I don't care about cookies rasava tutto però mi accettava anche tutto quindi questa invece a volte non becca il banner però è carina perché dopo tu hai nelle impostazioni della don vedi anche quanti click ti ha risparmiato e per categoria di fornitore quindi tu ah allora c'è questo fornitore qua ti ho risparmiato 300 click su quest'altro te ne ho risparmiati 22 io attualmente ho 3800 click risparmiati sul mio browser del portatile sul telefono non ho guardato quindi è veramente comoda e vi consiglio di usare la prima poi oltre a questo diciamo che soprattutto sui siti di notizie abbiamo un altro strumento a nostra disposizione su quelli che anche ci obbligano cioè ci mettono di fronte a una scelta che è o sì o sì e cioè gli strumenti per la lettura voi sapete che praticamente questi siti come vi dicevo prima che hanno il banner che ti dice o accetti o l'articolo non lo vedi finché non paghi in realtà l'articolo te l'hanno già mandato nel browser perché l'articolo ce l'hai lì è solo che è un po' coperto ma il testo è lì non devi neanche ricarricare la pagina non devi fare nessun'altra comunicazione col server ormai è già arrivato nel tuo browser prima te l'ha mandato e poi ti dice però però non puoi guardarlo però te l'ho già mandato cioè come io ti spedisco una lettera però ti dico eh però non aprirla perché non si può però te l'ho già spedita quindi cosa facciamo possiamo utilizzare degli strumenti chiamati di lettura perché diciamo che ti cambiano la grafica della pagina per renderla più leggibile più carina in modo da vedere l'articolo senza distrazioni quindi tira via la pubblicità tutte le robe le sidebar i menu eccetera e in più tira via anche il banner che sta coprendo il contenuto dell'articolo per esempio sui principali browser che sia Firefox, Chrome Edge quello che volete avete la funzionalità che si chiama proprio modalità lettura o reader mode su Firefox si può accedere tramite F9 ce l'avete anche sulla versione per smartphone sia di Firefox che di altri browser e qui come esempio c'è un sito che in realtà non avrebbe nessun problema perché è quello del look però diciamo che vedete che quando permette il tastino per la lettura vi mostra l'articolo senza nessuna distrazione nero su bianco a volte in alcuni casi non becca bene le immagini quindi qualche foto magari non la vedete però in linea di massima l'articolo riuscite a leggerlo e questo funziona benissimo anche su quasi tutti i siti di notizia in cui vi esce fuori la finestra che ho scritto devi accettare i cookie no F9 oh non ho accettato niente però l'articolo lo leggo perché è già lì cioè nel momento in cui mi viene imposto questo ultimatum l'articolo è già arrivato nel mio browser il mio browser l'ha già scaricato ormai il lavoro è già stato fatto quindi c'è poco da fare oppure c'è anche come possibilità clearly reader che è una sia estensione per il browser sia servizio web volevo parlarvi dell'estensione per il browser che secondo me è anche carina però ho visto che per qualche motivo almeno l'ultima versione che ho provato si blocca su Linux non so perché ho scritto allo sviluppatore gli ho detto guarda che c'è questo problema qua quindi l'ho lasciato a perdere però vi ho messo il link invece alla versione web dell'estensione che vi dà questo strumento qua voi potete incollare il link di un articolo premere il tasto e si collega alla pagina tira fuori il testo e ve lo mostra è un po' più manuale però anche questa possibilità e se poi risolvono il bug c'è anche la possibilità di aggiungere a Firefox o Chrome eccetera e sempre avere l'icona di clearly che vi permette l'accesso all'articolo poi ci sono anche altri strumenti in particolare un software libro molto carino è Wallabag e Wallabag praticamente è un software open source libero che è stato sviluppato come alternativa a Pocket o Read It Later che sono servizi in cui io mi segno gli articoli che voglio leggere più tardi quindi mi crea un account se uso la versione fornita da loro se no me lo scarico me lo installo sul mio server e aggiungo alla lista degli articoli quelli che voglio leggere in futuro posso aprire la mia pagina personale vedere tutti gli articoli che mi ero segnato cliccare e me li presenta con una modalità di lettura molto simile a quella che avreste sugli strumenti precedenti quindi come effetto il vantaggio immediato è che mi impacchetta l'articolo estraendo solo il contenuto leggibile diciamo togliendo tutto il resto in più ha anche una funzionalità per cui se sto usando la versione diciamo quella ostata su un server di premere il tasto condividi e mi generano un link pubblico che posso mandare ai miei amici in cui l'articolo è leggibile già pulito diciamo senza login e registrazione anche qua ci sono due opzioni come vi dicevo o vi scaricate il software che è software libero mettete su un server vi installate il software ve lo gestite ve lo aggiornate eccetera eccetera oppure date listi 9 euro all'anno vi gestiscono tutto loro vi fate l'account funziona una meraviglia e vi aggiungete gli articoli che volete leggere sostenete un software libero comunque dello sviluppatore e funziona che è una bellezza veramente sia come aggiunta degli articoli sia perché poi c'è anche un'estensione per il browser che vi dà il tastino quindi io navigo su un sito clicco il tastino so che va su wallabag e poi magari tra una settimana mi sveglio che ho 10 minuti liberi guardo gli articoli che voglio leggere oppure posso cliccare l'icona di condivisione e mandare un link a un altro mio amico per fargli vedere l'articolo già diciamo schermandolo al posto suo così il mio amico non si espone neanche perché gli ho già mandato l'articolo pulito poi ultimi dettagli non è strettamente correlato alla lettura però sempre riguarda i cookie il tracking e tutto il resto non possiamo non parlare del blocco pubblicitario anni fa per prendere i virus si diceva che dovevi andare su certi siti sto parlando ovviamente dei siti di Waritz software pirata naturalmente no però dicevano che devi andare su certi siti e ti becchi i virus e anni fa ma 20 e passa anni fa era così adesso invece è il contrario cioè la pubblicità online come veicolo di malware raggiunge anche in alcuni casi estremi 180 volte la probabilità di prendere un virus o malware rispetto a siti di altra natura quindi qual è il succo della situazione che bisogna navigare con i blocchi attivi c'è poco da dire eh ma la pubblicità eh ma io non posso espormi 180 volte più probabilmente a beccare dei malware e magari aprire un articolo sul telefonino e metterci 45 secondi per caricare la pagina perché mi sta scaricando un video pubblicitario prima di leggere la notizia perché qualcun altro ha deciso così cioè io devo anche nell'utilizzo di tutti gli strumenti che siano fisici o digitali che sia andare in moto in auto o andare su web devo un attimo tutelarmi in quello che faccio come in moto metto il casco sul web devo comunque un minimo tutelarmi quindi bisogna usare i blocchi pubblicitari finché la situazione non viene in qualche modo gestita in modo più civile di conseguenza è bene avere uno strumento che faccia sia blocco pubblicitario ma soprattutto per la tematica che stiamo trattando stasera blocco dei tracking che il tracking non è la stessa cosa da pubblicità ci sono degli strumenti che non vanno a mostrarti nessun banner però ti vanno a registrare i siti che visiti i click che fai quante volte hai scrollato la pagina tutte queste robe qua magari non vedi nessun banner però intanto stanno registrando mandando eccetera e per questo io vi suggerisco caldamente di prendere qualsiasi blocco pubblicitario che avete in questo momento installato lo disinstallate e lo sostituite con un blocco origin perché non c'è assolutamente nessun strumento che raggiunge il livello di precisione velocità e leggerezza contemporaneamente diciamo di un blocco origin che è un'estensione un software open source e se non vado errato sì perché c'è c'è repository e è molto leggera e soprattutto non è focalizzata soltanto sul blocco pubblicitario ma è molto molto focalizzata sulla riduzione dei tracker quindi vi consiglio caldamente di usare questa ci sono altre estensioni più famose per esempio Adblock Plus che è forse quella più famosa del mondo che hanno tutta una serie di partnership con fornitori di contenuti per lasciare a passare certe pubblicità cioè il modello di business di Adblock Plus è che si sostiene perché lascia passare determinate pubblicità quelle che chiamano pubblicità accettabili hanno tutta una serie di requisiti che loro dicono se tu rispetti tutti questi requisiti qua e mi paghi allora ti faccio passare oppure ad esempio ci sono estensioni come ghostry o simili che ti dicono ti blocchiamo i tracker eccetera sì però contemporaneamente fanno statistiche su quanti tracker hai visto e li vendono a quelli che fanno pubblicità che è bellissimo è vero che sono anonimizzate chiaramente non vendono i tuoi dati come singola persona fanno tutta una serie di aggregazioni però comunque fa un po' ridere come cose questo è un progetto open source non ha modelli di business particolari però funziona una meraviglia e in aggiunta se siete un po' più utenti tecnici che hanno la raspberry che vogliono gestirsi un po' in casa il dns eccetera ci sono due alternative molto utili ad guard home oppure file hole io personalmente uso ad guard home perché secondo il mio punto di vista è molto più carino come interfaccia è pratico da installare ha un file binario unico che devi installare cioè lo copi e lo fai partire e sei a posto ha delle funzionalità di serie molto carine come il dns o htps o tls eccetera però non vado nei dettagli tecnici se siete smanettoni sappiate che potete installare nella vostra casa un dns che vi filtra le pubblicità da tutti i dispositivi che sia la televisione il tablet la console di gioco eccetera o anche i tracker vi blocca tutto quello che voi decidete che deve bloccare in modo trasparente non è sufficiente utilizzare per il dns è una cosa simile solo che te lo gestisci tu e te lo configuri con i filtri che vuoi tu te lo puoi far girare su una raspberry per esempio in casa quindi dentro casa il router è appuntato lì tutti i dispositivi vanno a puntare su quel dns e ti filtra in più puoi anche dirgli che a seconda dell'indirizzo ip o di altre regole che metti alcune cose le fa passare altre no quindi potresti avere dei filtri molto restrittivi su un dispositivo tipo una televisione che ha le app che si collegano tutte le parti dei filtri meno restrittivi sul portatile perché dici no io devo fare determinate cose non voglio che blocchi niente e quindi disattivo i blocchi però di base lo strumento portato di tutti con un click è uBlock Origin si installa nel browser Firefox, Chrome, Edge quello che volete anche se avete Firefox sul telefonino Android potete aggiungerlo e vi blocca le pubblicità e il tracking soprattutto infine ultimo suggerimento altro articolo molto interessante che sembra fatto opposta ma è il secondo articolo che ho beccato in questi giorni per puro caso quando stavo preparando il materiale per la serata ho detto caspita questo devo proprio metterlo perché è un ottimo articolo e si intitola come riprendere il controllo di ciò che si legge in rete perché siamo arrivati in un mondo in cui non sono più io che decido cosa leggere praticamente ma è l'app di turno quindi quando aprite Facebook aprite Instagram aprite quello che volete è l'app che decide quello che dovete vedere voi è come se andate in un ristorante state per prendere il menu e il cameriere dice allora stasera costata e patatine fritte sì ma io volevo no stasera c'è questo ma scusa ma fammi vedere il menu no una volta il web era così adesso è diventato che la piattaforma ti deve proporre i contenuti che vuole in modo che vedi solo quello che ha deciso la piattaforma o comunque lo vedi per primo perché poi sì non è che ti vietano di andare altrove però diventa complicato cercare il resto e parte molto interessante dell'articolo dice che internet ha introdotto molti problemi nelle nostre vite che sono sempre più caotiche però nel caso degli RSS ha anche fornito una soluzione a questi problemi e la domanda è quante persone sono disposte a usare questa soluzione perché non è una novità cioè tenete conto che i feed RSS sono una tecnologia che ha quasi 25 anni 25 anni in informatica è tantissimo eppure ci sono tante persone che non li hanno mai sentiti nominare non sanno cosa sono non li hanno mai utilizzati e non è difficile usarli e quindi sarebbe importante ricordare alle persone che esistono i feed RSS che ti permettono di vedere i contenuti di un sito web quando vuoi tu essere notificato se arrivano nuovi articoli decidere tu quando aprirli con che client aprirli come la posta elettronica io decido con che programma voglio usare la mia casa all'email con gli RSS decido con che programma voglio leggere gli RSS quindi sono io che decido che front-end avere perché sono praticamente il front-end alternativo ante l'itteram prima ancora che esistessero i front-end alternativi esistevano gli RSS e se ci fate caso è una cosa un po' assurda che l'uso degli RSS è in declino costante da anni ma non è arrivata una tecnologia che li sostituisce perché noi abbiamo smesso di utilizzare i floppy quando sono arrivati i CD le chiavette USB gli hard disk esterni abbiamo smesso di utilizzare le audio cassette quando sono arrivate i CD musicali abbiamo smesso di utilizzare gli RSS cosa è arrivato a sostituirli adesso la gente usa Facebook ma Facebook ti decide che articoli devi vedere non hai scelto tu i siti da seguire quindi non puoi considerarla un'alternativa agli RSS è una roba diversa può essere anche interessante usare Facebook per vedere cosa ti propone per carità se vuoi ho unità io consiglio o mi viene detto uno strumento che sostituisci gli RSS migliorando e allora lo provo subito perché mi interessa se no attualmente il migliore che abbiamo è questo per seguire i siti che vogliamo noi decidiamo noi che siti seguire e decidiamo come seguirli quando aprirli e vediamo gli articoli se chi gestisce le RSS non è un birbantello li vediamo integrali dentro il programma di RSS se no se il gestore del sito è un po' più birbantello ti fa vedere solo le prime righe e poi decidi tu se cliccare però comunque ti risparmia il fatto di visitare 50 siti per vedere aspetta controlliamo se è uscito un articolo no con gli RSS mi arrivano direttamente nella mia applicazione e vedo se sono arrivati oppure no esiste da tanti anni però diventerà obsoleto quando qualcosa lo sostituirà diventando migliore cioè noi siamo passati dagli RSS a Facebook Instagram e TikTok come per dire ma la ruota sono tanti anni che è rotonda adesso facciamo la quadrata sì ho capito è più nuova così però era meglio quella di prima no e qua è la stessa cosa cioè l'RSS è ancora uno strumento che è tra i migliori in assoluto per decidere cosa voglio leggere quando voglio leggerlo e come seguirlo purtroppo alcuni siti stanno anche riducendo la fornitura di RSS per lo stessi motivi che dicevo prima che vogliono tenerti all'interno Twitter anni fa aveva gli RSS di tutti gli utenti cioè io potevo andare su un profilo Twitter mi copiavo il link dell'RSS lo mettevo nel mio lettore e quando pubblicavo i Twitter li leggevo ma così facendo non stavo dentro Twitter stavo fuori quindi li hanno tolti si sono inventati un po' di scuse ma non funzionano bene c'è un bug sì ma allora risolvi il bug no perché l'obiettivo ovviamente era nei primissimi primissimi tempi anche su Facebook alcune funzionalità almeno le pagine i profili sinceramente non me lo ricordo perché sono passati troppi anni però almeno le pagine avevano gli RSS quindi io potevo scegliere una pagina di un'azienda che mi interessava eccetera copiarmi l'URL dentro il lettore e quando pubblicavano i post ricevevo un aggiornamento cosa hanno fatto? li hanno tolti perché? perché non vogliono che le persone fluiscano del contenuto da Facebook se non sono dentro Facebook bisogna far entrare tutti nel recinto puoi chiudere il recinto se io continuo a tenere il portone spavancato la gente esce e quindi è così però comunque nell'articolo che vi dicevo prima ti suggeriscono degli strumenti alternativi anche per gestirti gli RSS ci sono dei siti che con con un abbonamento magari un canon eccetera ti permettono di creare degli RSS anche di Twitter Facebook altre piattaforme che non ce l'avrebbero direttamente però sono interessanti anche con gli strumenti lì in ogni caso mi piacerebbe che le persone scoprissero o riscoprissero gli RSS perché sono una tecnologia che è utilissima per tutti facilissima da usare perché è banalissimo usarli però per qualche motivo è rimasta relegata a delle persone un po' tecniche tra virgolette non si sa per quale motivo non ha fatto tantissima presa sulle persone diciamo non particolarmente nerd se vogliamo e infatti per per le Gli RSS io consiglio due piattaforme molto semplici che sono o InnoReader o Feedly hanno sia versioni gratuite che versioni a pagamento con funzioni extra e sono veramente semplici da usare poi naturalmente uno può fare tutte le scelte che vuole io ho visto delle persone che online mi hanno detto ma io utilizzo questo programma qua che mi installo mi hosto da solo mi aggiorno oppure mi scarico gli articoli tramite il feed reader a riga di comando poi me li copio di qua fantastico bellissimo però se vuoi una roba semplice che può utilizzare chiunque in modo facilissimo o InnoReader o Feedly poi quando uno si appassiona può fare tutto quello che vuole io mi faccio gli script che mi creano gli RSS per siti che mi interessano e che non ce l'hanno mi estraggono l'articolo integrale mi converto filtrano eccetera ok però quelle sono un po' tematiche più avanzate che magari non sono adatte per questa sera bene quindi questo era più o meno tutto per quanto riguarda la parte diciamo di presentazione di cosa sono i frontend alternativi e di come si usano adesso tra poco vorrei fare un attimo una una panoramica diciamo di come si installa l'istensione Libre Redirect su Firefox e come si utilizza vi faccio vedere col proiettore vedete che ci metteremo tre minuti tra installarla e far vedere come funziona perché è di una banalità impressionante intanto vorrei capire se è tutto abbastanza chiaro per questa parte o se avete delle domande diciamo su quello che abbiamo visto adesso è chiarissimo e anzi mia moglie sarà felicissima di sapere che c'è un'estensione per il browser per togliere limitare diciamo le richieste a ogni visita di sito perché passa giornate a trovare le alternative per evitare di accettare i compiti un altro un altro un altro dark pattern comportamento poco chiaro che non ho citato nelle slide ma che ho visto molto spesso è che tu vai su un sito di notizie che ti dice vuoi accettare i cookie oppure no quindi ti dà la scelta se fai accetta si chiude il banner e vedi l'articolo se fai rifiuta esce fuori l'altro banner ma sei proprio sicuro che non vuoi accettare i cookie con due tasti ho scritto accetta solo necessari o accetta tutti che di nuovo è grande rosso gigantesco mentre l'accetta solo necessari è in piccolo anche questo lo trovate in modo quindi un click per accettarli due click molto attentamente attenti a non sbagliare il tasto per rifiutarli altrimenti li accettate di nuovo il sito in cui accetta i cookie accetta i necessari o rifiuta tutto rifiuta tutto eh rifiuta tutto si allora bisogna vedere nel dettaglio cosa intendono perché allora per quanto riguarda i cookie tecnici non c'è richiesto l'accettazione non deve essere richiesto perché il cookie tecnico è un cookie che è obbligatorio per il funzionamento del sito o comunque senza di quello non potrebbe funzionare correttamente quindi non devi neanche farlo accettare ci sono alcuni a volte che fanno dei banner di cookie un po' strani è capitato anche a me come sviluppatore web che mi richiedessero di mettere dei banner che non avevano un senso logico e non avevano neanche un senso legale a volte del tipo di mettere accetta rifiuta e la X in alto che faceva la stessa cosa del rifiuta però ti riproponeva un'altra volta sono sbagliato allora accetta scegli e personalizza continua senza accettare ah ok allora faccia le alternative sì il rifiuto praticamente ti rifiuta tutti i cookie che non sono cookie tecnici quindi profilazione pubblicità preferenze tutte queste cose qua il personalizza ti fa scegliere singolarmente i fornitori e l'accetta accetta tutto quindi sì è corretto così cioè dovrebbe essere fatto in quel modo o accetta o rifiuta o personalizza quello che vuoi personalizza è necessario solo se il sito ha tanti tipi di cookie perché se ne ha solo uno o due basta accetta e rifiuta diciamo ad esempio in iNrader posso smetterli o accetto i cookie di iNrader quelli di iNrader li ho scritto poi dice già accetta i cookie setting cioè vai a settarli nel senso ti dice o non accettarli o vai a scegliere esatto su iNrader si può scegliere ad esempio loro usano è una cosa che avevo scritto anche perché mi sono abbonato a una di piani a pagamento e gli avevo scritto al servizio clienti ma voi usate google analytics sapete che ad esempio in Italia è sostanzialmente impossibile usare google analytics in modo legale è praticamente impossibile cioè bisogna fare tutta una serie di operazioni particolari quindi sostanzialmente i siti dovrebbero smettere di usarlo e basta e usare un altro sistema però loro non sono italiani sono in Bulgaria loro hanno evidentemente un'interpretazione un po' diversa probabilmente il GDPR e ti permettono di scegliere quindi se tu accetti tutti i cookie parte anche google analytics se no invece vai su o su rifiuta o vai nelle impostazioni te lo puoi disattivare e quindi in quel momento viene completamente spento e non hai google analytics sotto insomma però a parte quello mi pare che come altri cookie non abbiano praticamente niente di particolare io mi sono trovato in alcuni casi dove non c'era una rifiuta c'era solamente un personalizza e quindi quando mi trovo in quella situazione è stato da sempre perché mi trovo a dover fare tipo centinaia di click sì adesso io ultimamente stavo pensando ma è è legale questo? no però non interessa nessuno cioè nel senso lo fanno no in realtà per essere precisi adesso a parte la risposta che era un po' una battuta però in genere quei siti là dovrebbero avere tipo un X o comunque un modo perché tu clicchi fuori e si chiude in quel modo dovresti averli rifiutati tutti in automatico che magari non è chiaro perché a volte non lo mettono esplicitamente però in realtà altrimenti appunto dovresti fare personalizza quando fai personalizza tutti quelli non tecnici dovrebbero essere di default spenti tranne se è un sito americano che se ne frega beatamente di quelle che sono le norme europee e quindi li metti accesi però diciamo che di solito tu fai personalizza vedi che sono tutti off fai salvo a preferenza e a quel punto li hai rifiutati tutti non ci sono anche come si chiama legittimo ah si legittimo interesse è un capitolo che legittimo interesse ma oltre a quello mi sono trovato in caso in cui te ti sentivi le cose poi c'è scritto tipo la lista degli esterni ma proprio un'altra lista di click da eventualmente fare che in alcuni casi seleziona tutto si è vero è uno dei motivi per cui uso con Sandomatic perché me li rifiuta poi lo puoi impostare anche mentre sta facendo le cose perché non è sempre istantaneo a volte con Sandomatic ci mette anche 20-30 secondi a finire puoi dirgli che il banner dei cookie te lo fa vedere in piccolo cioè quindi tu praticamente vedi in basso a destra in semi trasparente il banner aperto con l'estensione che stava scrollando sta cliccando tu non stai facendo niente però si sta compilando da sola e dopo 20-30 secondi fa ok e parte però sono rari i casi in cui ci mette tanto e ancora di più rarissimi i casi in cui ho visto che a volte si blocca però in quel caso puoi dire su questo sito disattivati ricarichi la pagina te la compili tu però è veramente molto raro che si blocchi una domanda invece arrivando dei vari contender alternativi dei vari esempi quelli ci sono solo via web o ci sono anche ipoteticamente le app? ottima domanda ci sono delle app soprattutto per android qualcosa anche per ios però meno e dopo eventualmente vi faccio vedere delle liste perché ci sono anche delle liste di frontend alternativi con mega listoni di servizi per esempio ci sono tante app alternative per twitter ad esempio per il cellulare che però stavano tutte morendo perché c'erano problemi con l'API però dopo l'hanno risolto in qualche modo ci sono diverse app per esempio per youtube music su android puoi installarti proprio l'app e se non ti piace la web app ti installi l'applicazione e la usi come un riproduttore multimediale quindi si ce ne sono oppure anche per esempio il new pipe che potete installare per youtube è molto famosa vi permette di vedere i video su youtube senza passare per l'app di youtube dopo vi faccio vedere delle liste a questo proposito nel frontend che hai fatto vedere per youtube però non ti fa il live ti consiglia tu vai ai canali e non poi un video nuovo con quel canale non ti fa come youtube che ti consiglia dare a crescita un nuovo video non lo fai in base alle tue preferenze però youtube ecco per esempio un aspetto positivo di youtube anche quello originale diciamo quello vero è che ti danno i feed rss dei canali quindi ad esempio tu puoi abbonarti su inoreader hai gli rss dei canali che segui io l'ho fatto perché molto spesso anche usando youtube sul telefono mi diceva guarda è uscito un nuovo video sì ma adesso sono in giro lo guardo dopo e dopo mi dimenticavo che era uscito invece con gli rss mi rimane sempre lì e mi ricordo di andarlo a vedere quindi questo è una funzione ufficiale di youtube quindi non c'è neanche bisogno di usare robe strane e dopo sono andato a cinto canali non c'è neanche più allora non è che mi vengono sempre fuori i video perché un canale fa un video ogni settimana sì non è che mi lo propone sempre ogni settimana perché è un video nuovo sì non so che descrizione ogni giorno perché infatti perché è l'algoritmo di youtube che sceglie quello che ti deve proporre se tu vuoi seguire tutto ti prendi gli rss dei canali youtube te li copi nel tuo programma di lettura rss come i no reader per esempio e ogni volta creiamo un video diciamo si aggiunge gli elementi da leggere tu trovi tutti questi cosi da leggere e quando vuoi decidi tu cosa aprire e cosa non aprire come le email diciamo così ecco se vogliamo un paragone con la webmail se non avete altre domande vi faccio vedere un attimo come funziona parto subito con la domanda relativa a quali sono i frontend alternativi vi faccio vedere un paio di liste che potete trovare allora intanto uso DuckDuckGo per fare ricerche poi se volete ovviamente potete usare google quello che volete scrivo alternative frontends ci sono sostanzialmente due liste principali c'è questa qua di Mendel 5 e l'altra che è questa mi sembra Digital Blossom allora vedete voi andate su un reposito di tipo questo e lo ingrandisco un po' e vi trovate sta mega listona di tutti i servizi possibili immaginabili sostanzialmente in cui potete vedere quali sono i frontend alternativi vedete youtube youtube music twitter radio tiktok image ur spotify apple music bandcamp twitch discord eccetera alcuni beh per esempio spotify tanti hanno o richiedono l'account effettivamente premium perché usano le piaglie ufficiali di spotify oppure scaricano tipo i dati di playlist da spotify poi per farti partire la canzone scaricano la canzone da youtube music così fanno un incrocio in modo che tu riesca a vedere senza problemi google search eccetera eccetera tutta una serie di telegram e tutte queste robe qua per esempio appunto uno va qua dice ah youtube guarda c'è invidius o piped poche tube cloud tube eccetera eccetera questi sono tanti applicazioni via web se vado sotto per esempio vedete che mi propone anche le app per android quindi new pipe oppure mi dice guarda che esiste anche i programmi per scaricarti video tipo youtube dl questo in realtà si chiama youtube dl ma supporta circa decine se non centinaia di siti gli punti l'url scarica il video una volta che l'hai scaricato praticamente tu il javascript e tutto il resto non l'hai caricato del sito e ti guardi il video che hai salvato ovviamente è un po' più manuale ma si può fare anche così quindi si è un'altra possibilità vedete ci sono delle applicazioni anche fatte per windows web ce ne sono per mac per linux anche questo per esempio python 3gk3 sicuramente gira su linux e uno ecco un'altra qua per android eccetera uno sceglie quello che preferisce se vuole un frontend web sa che c'è l'estensione che lo manda in automatico se vuole un'applicazione si installa l'applicazione sul computer e la utilizza quindi qua uno scorre 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 e vede le varie alternative youtube music beatbump e un altro che non vi ho menzionato prima anche questo molto carino twitter e così via invece l'altro repository è molto simile in realtà solo che magari te ne proponi di un po' diverso questo forse ne ha un po' meno e core, guitar, medium, tiktok eccetera uno va sotto e qua li vede un po' organizzati in modo diverso sono un po' più suddivisi insomma forse questi sono più orientati all'interfaccia solo al frontend tramite web e non quelli per applicazioni mobili mentre questo qua ha più applicazioni vedete android, android, android ha tutta una serie di applicazioni anche per smartphone che sono elencate quindi questo repository e questo repository vi danno tutta una serie di link che potete facciamo un esempio pratico vado su youtube no all'inizio lui mi propone in videos mi dice che c'è la home page del progetto questa è la home page degli sviluppatori diciamo poi ci sono le istanze che posso trovare e qua me ne elencano diverse andiamo a vedere vedete qua addirittura ti dicono anche in che paese ho stato il server e uno dice magari io non voglio usare un'istanza americana perché comunque poi gli americani tracciano ci trovi qua qua ti dice se hanno cambiato perché essendo un software open source con una licenza specifica se loro modificano l'istanza possono farlo ma devono pubblicare le modifiche infatti qua questi sviluppatori hanno fatto delle modifiche e le hanno pubblicate qui e così via ne clicco uno a caso guarda il primo e finisco su in videos che adesso mi dà semplicemente una casa di ricerca proviamo a scrivere linux ed ecco che vedo tutta una serie di video proposte che troverei anche su youtube però qua sono sul frontend alternativo se clicco su un video abbiamo la connessione che non ci aiuta tantissimo stasera ovviamente l'interfaccia non è identica a quella di youtube però ci assomiglia un po' insomma ho il video il mio bel tastino play vabbè adesso vedo il video qua ad esempio mi danno un po' di funzionalità carina del tipo guarda su youtube quindi mi dà il link originale se voglio fare un incorpora diciamo di quello originale cambiare distanza invidius incorporare invece invidius mostrare le annotazioni sopra il video e mi fa vedere quante sono state visualizzazioni e like su youtube la licenza per tutti se no eccetera il canale i commenti e qua vedo tutti i commenti posso caricarli non mi chiederà mai di loggarmi ovviamente non posso rispondere posso solo vederli e poi qua ci sono un po' di suggerimenti che sono tratti da youtube come se visitaste youtube senza loggarvi quindi sono suggerimenti un po' generici per tutti gli utenti diciamo non personalizzati sul vostro profilo perché non siete non siete loggati no loro sostanzialmente è come se si collegassero la pagina web originale del video estrapolassero i dati il titolo le visualizzazioni l'indirizzo del flusso video eccetera eccetera te lo rielaborano un po' graficamente per fartelo vedere in paginato bello e poi te lo mostrano e quindi sì così allo stesso modo non so facciamo ad esempio vado su reddit mi propone teddit libreddit exedit reddit client tutta una serie di opzioni io personalmente mi trovo abbastanza bene con libreddit qua ecco per esempio hanno un'istanza ufficiale degli sviluppatori poi ce ne hanno anche delle altre andiamo a vedere questa tanto per curiosità scrivo linux però adesso non rende tanto l'idea perché ho una connessione lenta però in realtà queste spagini qua sono veramente leggere rispetto all'interfaccia ufficiali quindi veramente anche per esempio adesso se io vi faccio vedere su medium c'è scribe che ha l'istanza principale che sulla home page ha un esempio di articolo e qua c'è un esempio esatto 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 se clicco qua tac c'è al di là che questa connessione è lenta ma vedete la velocità se voi provate adesso provo a caricare questo articolo originale qua su medium secondo me stiamo là un bel po' ci arriviamo eh ho calma eccola qua adesso si è caricato neanche troppo lento per carità però tac ci sono tutte le cose belle sì però cioè a me sia l'attuale che personalmente piace lavorare anche sul web design cioè questa pagina qua non è brutta e non è neanche poco leggibile però ha un codice che è leggerissimo perché è veramente come pagina è veramente leggera ok adesso abbiamo visto la modalità diciamo manuale cioè io mi cerco l'istanza clicco sull'istanza comincio a cercare quello che mi serve però magari voglio una cosa che funzioni direttamente allora andiamo a cercare Libre Redirect Contact.go vedete vabbè i tirash e il sito ufficiale è questo che mi fa vedere un po' già il funzionamento nel senso che intanto mi dice io supporto questi servizi qua non tutti quelli del mondo però alcuni li supporto che sono questi come lo installo vado qua e c'è download vedete o per Firefox o disponibile per Chromium e questo richiede funziona su tutti i browser basati su Chromium quindi Chrome Brave Vivaldi Edge eccetera eccetera però dovete installarla manualmente perché non è dentro lo store di questi browser ma dovete installarla manualmente mentre su Firefox c'è dentro lo store allora la aggiungo guardate la quantità di roba che faccio la aggiungo faccio installa e qua mi propone i siti di cui alcuni sono già attivi di default e altri no tipo YouTube non è attivo per esempio ma dico no voglio attivarlo su YouTube cosa vuoi come frontend o lascio quello di default e va benissimo però se io preferisco un altro allora me lo vado a impostare qua qua mi dice aggiungi le tue istanze preferite e mi fa tutta una serie di istanze che lui ha già impostato dentro tra cui mi dice che U2 usano Cloudflare siccome alcune persone non gradiscono l'uso di questa piattaforma me lo assegni in rosso se uso torcio anche queste vabbè adesso non andiamo nel dettaglio posso fare il ping così mi dice anche quali sono quelle più veloci in base alla mia connessione anche qua adesso non quindi tipo di ridrizzamento solo quelli non embeddati se i percorsi non sono supportati fai bypass oppure blocca YouTube music attiviamo anche YouTube music uno si sceglie quello che vuole praticamente Twitter TikTok uno fa così va sui siti che gli interessano clicca image you are non mi interessa medium si mi interessa ancora e così via adesso non le faccio tutte però anche search se non lo sbaglio non c'è Instagram dalla sua parte no Instagram esisteva fino a poco tempo fa solo che c'erano poche istanze disponibili e il progetto è stato abbandonato praticamente perché Instagram ha una politica super aggressiva sui filtri degli IP quindi appena un indirizzo IP comincia a fare tante richieste viene bannato quindi le istanze nascevano dopo un tot si venivano bloccate dovevano fare altre istanze è diventata una cosa ingestibile fino a che non hanno disattivato esiste ancora qualche istanza che però funziona solo sei già il link di un post specifico te lo fa vedere se vuoi vedere un profilo invece il profilo viene bloccato e siccome non era stabile per niente da questa estensione qua l'hanno l'hanno tolta però effettivamente me ne sono accorto anche io giorni fa perché prima c'era anche sul libro redirect e invece adesso non c'è più se io vado nelle impostazioni dell'estensione di firefox no? sono ad esempio qua in library direct eccoci library direct funzionamento in finestre anonime consenti o non consentire? si non riesco a capire se viene garantito il permesso l'estensione potrà accedere alle tue attività online nelle finestre anonime cioè quando io navigo in modalità anonima praticamente comunque funziona esatto per ogni estensione firefox ti chiede se le vuoi usare anche quando la finestra è anonima oppure no dipende dai gusti insomma io personalmente tendo ad attivarle anche sulle finestre anonime diverse estensioni io la vivo sempre in finestre anonime allora si vede che allora devi attivartela se no la vedi vai ok allora adesso per esempio vedete che io ho attivato questa questa estensione qua se vado qua sulla ricerca DuckDuckGo scrivo linux ok tanto per cambiare vado su video e mi propone un sacco di video di youtube no clicco su sto video ma non mi sta mandando su youtube perché? perché avevo il libro direct attivo e adesso mi ha aperto un'altra istanza poi bisogna vedere se ne ha scelta una particolarmente veloce oppure no però vedete che in automatico sono finito su questa istanza qua eh ma mettiamo caso che che sia bloccata non va bene cosa faccio? clicco sul tastino delle estensioni c'è libro direct qua clicco su scusate ho sbagliato non clicco sul nome ma clicco sull'ingranaggio e c'è cambi istanza redirect redirect to original quindi redirect to original mi rimanda sul sito di youtube oppure faccio di nuovo qua faccio redirect ok non mi va bene questa clicco qua faccio cambio istanza vediamo se me ne pesca un'altra anche non mi ricordo quante ne ho configurate sinceramente ah no scusate ne ho messa solo una perfetto non cambia istanza perché ne ho messa solo una però se ne avesse messa più di una tipo qua perché magari dico ok faccio il ping ne vedo che ce ne sono 4-5 che sono molto veloci a rispondere perfetto allora me ne metto un po' tac 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 così se mi prende click ah forse le ho già aggiunte quelle eccetera ecco le ho aggiunte vado qua faccio cambio istanza me ne pesca un'altra non mi piace il tema chiaro mettiamo il tema scuro qua ci sono le impostazioni queste impostazioni dell'istanza attenzione che vengono salvati con i cookie ovviamente quindi se voi cambiate browser o cancellate i cookie poi o cambiate istanza non le vedete più però vedete che ad esempio questo è un invidios che ha diverse quindi diverse opzioni come preferenze quindi a qualità video predefinita velocità predefinita prox per i video eccetera eccetera ah ecco questo va un po' contro quello che dicevo prima sul discorso degli IP in teoria vi permette anche di proxare il flusso video poi bisogna vedere quanto stabile è quanto veloce va eccetera però anche questa opzione qua altrimenti il flusso video mi arriva direttamente dai server di Google nel mio pc quindi non è che mi nasconde l'IP e così via sono video predefiniti eccetera tanto visto che abbiamo parlato di youtube music ci vado direttamente music.youtube.com e mi va a finire su beatbump zero pubblicità zero casini zero problemi e zero diciamo cose che appesantiscono l'interfaccia vedete che si è aperto immediatamente è di una velocità clamorosa non so clicco un suggerimento a caso e non premo play perché dopo si trovo su youtube non è il caso che ci blocchino queste istanze questi fondamentali alternativi per youtube music vanno anche attorno a quella funzionalità automatica che ha youtube music che l'ho conosciuto per i 12 16 ancora lì beh diciamo che quella è un'interfaccia di interfaccia cioè una funzione scusa mi stavo incartando quella è una funzione di interfaccia cioè del client quindi se tu non usando il client ufficiale non ce l'hai quella funzione lì dovrebbero aggiungerla loro diciamo no esatto qua andiamo alle impostazioni ci sono un po' di impostazioni disponibili io voglio il tema dim no sembra quasi uguale sinceramente sì no sono molto simili tra di loro questi temi in realtà io li vedo sullo schermo che cambiano ma sul proiettore non si apprezza bene il discorso e vedete che ci sono un po' di opzioni questo è beat bump se non ti piace beat bump vai sulle preferenze dell'estensione e ti vai a mettere hyper pipe adesso quindi vado su music music.youtube.com e vado a finire su hyper pipe che è un'interfaccia completamente diversa questa forse è un po' più da tablet che da o da telefonino che da computer comunque è carina anche questa un altro po' di opzioni c'è anche il tema light un po' di cose insomma me li imposto come voglio e vedete che qua ti propone già delle istanze alternative se vuoi con tutta una serie di informazioni sui server hyper pipe è un'altra alternativa di video spessi anche io uso pipe per proiettivo interessante allora non so se hyper pipe è un fork di pipe che si sono dimenticati di cambiare la scritta oppure se è una bella domanda mi viene il sospetto che o hyper pipe è il nome vecchio che dopo è stato rinominato il progetto e si sono dimenticati di aggiornare l'estensione potrebbe essere questo oppure hyper pipe è un fork di pipe sinceramente adesso così su due piedi non lo saprei bisognerebbe vedere se se c'è qualche informazione no sembrerebbe una ah ok quindi è un frontend composto da piped e dall'inertube hanno fatto una specie di fusione di due progetti diversi ecco carino potere dell'open source anche questo quindi si basta cioè non c'è tanto da far vedere in realtà perché voi vi configurate le istanze che volete il servizio che preferite o accettate il default non dovete mica cambiarlo per forza vi dite solo quali siti volete che vengano gestiti da quel momento in automatico viene tenuto il rendirizzamento e non dovete più preoccuparvi di averla sostanzialmente salvo che se in un caso magari vi ha rendirizzato e volevate il sito originale andate sull'ingranaggio fate vai all'originale e in automatico vi ha gestito tutto allora maps usa openstreetvon facile map che non conosco sinceramente però possiamo andarlo a vedere maps.google.com sinceramente non lo conosco facile map credo che sia sempre un'interfaccia di openstreetvon sì non hai tantissime tantissime alternative però queste sono un po' le opzioni a disposizione come vedete è molto semplice da usare non c'è bisogno di diventare matti a configurare cose e alcuni di questi frontend sono molto pratici e anche velocissimi a caricarsi ecco quindi se avete qualche altra curiosità in merito possiamo vederli anche dal lato pratico altrimenti direi che abbiamo visto tutto quello che c'era da vedere sostanzialmente per stasera la nostra curiosità di GitHub c'è un'altra interfaccia di GitHub per legare i progetti di GitHub sì probabilmente vediamo probabilmente per il fatto che GitHub è di Microsoft e magari alcune persone non gradiscono particolarmente hanno creato questa alternativa allora vediamo faccio il GitHub punto com apro il mio profilo così vediamo ok sì non è che si veda tantissimo tipo i repository non so dove sono finiti ok vediamo sì un po' diciamo spartano come interfaccia però sì se uno non vuole andare direttamente su GitHub può anche gestirlo così insomma bene direi che a questo punto vi ringrazio per l'attenzione e buona serata grazie a te grazie grazie grazie